buongiorno signore e signori ragazze e ragazzi oggi voglio parlarvi di onda cbr 1000 rr fire blade perché quest'anno onda con questo modello ha raggiunto i 30 anni di produzione infatti la prima versione dalla fire blade uscita è stata presentata al pubblico nel 1992 quindi festeggia i 30 anni di fortunato di questa fortunata serie di moto è stato un vero punto di svolta quello del debutto della fire blade che fu sviluppata da tadao baba il nome fire blade nasce da un'errata traduzione della parola francese fudre che significa fulmine da qui mantiene questo nome che rappresenta proprio un punto di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo delle moto sportive nel 91 onda spostò sviluppo in europa e in quel periodo il team di progettisti cappeggiato da baba san studiò le ducati in particolare la 916 che colpita da obama per il suo design uno degli obiettivi della squadra di tadao baba era di rendere la moto più leggera di una 600 e a questo proposito si scontrò spesso con i suoi tecnici e alla fine riuscirono costruire una moto dal peso di 185 kg quindi l'idea era di sviluppare una super sportiva che fosse facile da guidare per dare la sensazione del pilota di guidare sia una super sportiva ma senza particolare impegno anche nelle strade cittadine inizialmente pensò una 750 però era già presente la vfr con la stessa cilindrata poi pensò a una 1000 però produceva già la cpr 1000 f la onda allora decisa di utilizzare un motore da 893 cm cubici che avesse però la dimensione di un 750 quindi in pratica prese un motore da 750 di cui aumentò l'alesaggio e diere vita alla flyer blade e alla classe 900 quindi caratteristiche tecniche della moto erano quella di avere un quattro cilindro ovviamente da 893 cm cubici raffreddamento a liquido bialbero in destra quattro valvole per cilindro quindi un motore ovviamente molto performante con carburatori prima versione che in da 38 mm con una potenza dichiarata di 124 cavalli un peso a secco appunto di 185 kg altra caratteristica caratteristica che vediamo qui nelle foto nella foto è la ruota anteriore da 16 pollici per aumentare la già notevole maneggevolezza inoltre se notate sul copolino ci sono dei fori caratteristici che servono appunto a evitare nel cambio di direzione l'inerzia della macchina quindi riducono quella che l'inerzia nel cambio di direzione altra caratteristica tecnica importante che poi scusate che poi diede in inizio a un modo di sviluppare il motore e la moto attorno ad esso era quello di centralizzare le masse quindi di spostare il più possibile le masse non verso terra ma verso il centro di massa della moto in modo da renderla più agile nei cambiamenti di direzione quindi tutti questi fattori concorsero a creare una moto potente ma nello stesso tempo leggera che ero appunto uno degli obiettivi fondamentali che fu poi perseguito sempre nello sviluppo successivo del modello e che diede fama a questa moto quindi il fatto di essere leggera è ovviamente molto importante diamo un'occhiata quindi alla estetica della moto che vedete abbastanza tradizionale caratteristico ad esempio il codone di quel periodo un po più pesante esteticamente rispetto alle moto attuali però gradevole insomma nel suo sviluppo vedete come poi la sede del passeggero si è stata ricavata in questa porzione più alta del codone ovviamente una moto sportiva quindi non adatta a muoversi in due però comunque è stato prevista anche la possibilità di avere un passeggero a bordo molto bello naturalmente il cupolino la carenatura sono integrato poi con la carenatura caratterizzato da questa barra che serve da rinforzo al cupolino stesso che è una delle caratteristiche di questa moto per finire bellissime anche i freni a disco ovviamente e le forcelle che sembrano quasi a stelo rovesciato ma in realtà sono forcelle tradizionali però con questa finitura in cui si vede bene la parte bassa che è più allargata rispetto al resto della forcella sembrano quasi a stelo rovesciato scusate quindi un'altra caratteristica estetica quindi ovviamente come ci è abituato sempre onda ma particolare cura alle finiture bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike attivate la campanella per essere sempre aggiornati iscrivetevi al canale mi fa molto piacere qui sotto se volete mettere i vostri commenti sempre molto graditi ciao a tutti e buona giornata